Gentili telespettatori e telespettatrici di Telebelluno, da Claudio Funtaniva a voi tutti le più cordiale saluto e ben ritrovati a questo nuovo numero di incontro con. Quest'oggi parliamo di previdenza complementare, lo facciamo con il direttore di Solidarietà Veneto, Paolo Stefana, che saluto e ringrazio per essere intervenuto nei nostri studi. Buongiorno Stefana. Grazie a te, grazie a voi e buona giornata. Quindi una pensione complementare e in molti magari ci pensano, specie i giovani, nel senso che la pensione è un obiettivo che, ecco appunto chi è giovane magari vede sempre più lontano, si parla di quota 103, della nuova riforma del sistema previdenziale, ma direi di andare con ordine. Solidarietà Veneto, Stefano, è il più longevo fondo pensionistico del Veneto e il più partecipato, ho detto correttamente? Direi di sì, più partecipato sicuramente, più longevo direi pure, dato che Solidarietà Veneto, forma associativa nata ormai nel 1990 a seguito della contrattazione aziendale degli anni precedenti, ha compiuto ormai 33 anni, per cui è una forma di previdenza complementare che ha una notevole esperienza certamente e anche, come dicevi, una notevole partecipazione, dato che è il fondo largamente più diffuso nella nostra regione, con oltre 140 mila associati, normalmente lavoratori dipendenti, ma anche lavoratori autonomi, pensionati, giovani che ancora non lavorano, soggetti fiscalmente a carico, che sono stati iscritti dai loro genitori, quindi c'è una sostanziale trasversalità nella partecipazione al fondo, che ha l'obiettivo in effetti di rispondere a un'esigenza che forse 30 anni fa non si sentiva, oggi si sente e forse in futuro si sentirà di più, ossia quella di completare la componente pensionistica che avremo a disposizione un giorno, dato che forse in prospettiva la pensione diritto, la pensione pubblica andrà forse ad affievolirsi in ragione della demografia che connota il nostro territorio, il nostro Stato, certamente anche la nostra regione e questa provincia, una pensione, quella complementare, che va a costituire un elemento di rinforzo e che più che diritto potremmo ragionare in termini di progetto, progetto di risparmio, risparmio a lungo termine. Perché Stefano, ci faccia capire, un lavoratore può costruire in base alle proprie capacità ridituali, in base a quello che vuole investire, un tesoretto che possa quindi rappresentare una pensione, diciamo così, integrativa rispetto a quella fornita dallo Stato, ma possono aderire tutti i lavoratori a Solidarietà Veneto oppure no? Soltanto quelli pubblici, quelli privati, le aziende possono dare degli incentivi anche a favore dei lavoratori che vogliono, diciamo così, aderire a questa forma di previdenza complementare? Beh, diciamo, tipicamente a Solidarietà Veneto possono aderire lavoratori dipendenti che operano in Veneto, naturalmente, dei settori dell'industria, dell'artigianato, della piccola industria, quindi quando parliamo di industria parliamo dei settori più svariati, metalmeccanica, chimica, moda, occhialeria, edilizia, legno e quant'altro, ma anche appunto parliamo di artigianato, tra l'altro c'è un crescente interesse nel mondo dell'artigianato per l'adesione alla previdenza complementare, mentre è più longeva, come dire, la presenza del fondo nei settori più legati all'ambiente dell'industria. Possono aderire anche i lavoratori autonomi, le partite IVA, ecco, spesso il lavoro autonomo, come dire, si è trovato in passato ad avere delle sorprese per quanto riguarda la pensione, perché sappiamo che la contribuzione all'Inps per i lavoratori autonomi è più bassa in percentuale rispetto a quella dei lavoratori dipendenti, dunque il corrispettivo in termini di pensione, calcolato col metodo contributivo, il metodo che di fatto esiste in Italia dal 1995, offre dei ritorni in termini pensionistici, come dire, commisurati a quanto versato e se è stato versato o meno anche il riscontro, naturalmente è più limitato, quindi una trasversalità chi non può normalmente aderire a solidarietà veneto, ma non vuol dire che non ha delle possibilità a disposizione proprio il pubblico impiego, che ha invece a disposizione i fondi negoziali del pubblico impiego, poi naturalmente per attivare una forma di risparmio, un'altra domanda legata alla previdenza complementare, ci sono tante fattispecie, ci sono i fondi negoziali, vuol dire che nascono dalla contrattazione, si rivolgono prevalentemente ai lavoratori dipendenti come solidarietà veneto, poi ci sono quelli nazionali anche, ci sono poi i fondi promossi dalle banche, dalle assicurazioni che hanno caratteristiche diverse, ma un unico fine complessivamente è quello del risparmio a lungo termine per la futura pensione. C'è anche la possibilità, Stefan, se non va aderato, di scegliere se accantonare il proprio TFR in una soluzione, ovvero riceverlo alla fine del proprio contratto con l'azienda, oppure accantonarlo presso il fondo pensione. Soluzione, c'è una più conveniente oppure no? Sì, tipicamente il lavoratore dipendente che aderisce a una forma di previdenza complementare, un fondo pensione come solidarietà veneto, lo fa versando il TFR e maturando, non è l'unica forma di contribuzione, perché tipicamente per il lavoratore dipendente vi sono tre forme di contribuzione, il TFR certamente, dopodiché c'è il contributo individuale che io posso versare e in questo caso si attiva, tu prima l'hai chiamato incentivo se vogliamo, una contribuzione aggiuntiva prevista dai contratti di lavoro a carico dell'azienda, che può variare, facciamo conto fra i 200 e i 500 Euro, dipende un po' dal livello di paga, dal contratto di lavoro, però è un elemento importante, ricordo 400 Euro l'anno per l'arco di un'intera carriera lavorativa costituiscono tutto sommato un vantaggio rilevante per chi sceglie il fondo negoziale rispetto ad altre forme pensionistiche. Hai parlato di vantaggi, diciamo prima di tutto sceglierei il fondo pensione non tanto per i vantaggi, ma per il fatto della prospettiva, per avere un giorno, quando arrivo ad avere 50, 60 anni, una sicurezza maggiore di quella che avrei se fossi arrivato a quel giorno lì senza essermi preoccupato del futuro, quindi oggi da giovani pensiamo alla previdenza complementare e poi non ci pensiamo più e viviamo sereni e parliamo d'altro, ok? Però ci sono effettivamente anche dei vantaggi nella previdenza complementare, uno l'abbiamo toccato di striscio, nella previdenza complementare di natura contrattuale, come in solidarietà vendita, il contributo dell'azienda, il contributo aggiuntivo dell'azienda, dopodiché c'è la fiscalità agevolata, noi diciamo col fondo pensione tu puoi avere meno tasse e più pensione, perché il contributo che tu versi dalla tua busta pago, il contributo volontario che versi a beneficio dei figli a carico può essere dedotto dal tuo reddito, quindi risparmi in relazione all'IRPEF, al tuo scaglione più elevato di IRPEF, tipicamente il dipendente medio risparmia fra aliquota IRPEF addizionali attorno a un 27%, quando versa, verso 100 euro, nel risparmio 27%. Ma pensiamo anche al TFR, no? Il TFR quando viene versato alla previdenza complementare entra esentasse, quando tu vai ad averlo sotto forma di liquidazione alla fine del percorso lavorativo, paga una tassazione massima del 15% che si va a ridurre in virtù dell'anzianità acquisita nel fondo fino a un minimo del 9%, ecco che invece il TFR liquidato nel modo classico, tradizionale dall'azienda alla cessazione del rapporto di lavoro, ha una tassazione invece mediamente per il dipendente medio del 23-24%, quindi meglio pagare il 24% o meglio pagare il 15% o anche il 9% se ti prendi un po' di anzianità, io dico la seconda. Certo, Stefano, sono soddisfacenti questi numeri secondo lei oppure lo Stato potrebbe fare ancora di più per incentivare la previdenza complementare? Ma a chiedere di più c'è sempre il rischio che poi ci si prenda troppo abbondanti e che ti tolgano gli incentivi. Gli incentivi ci sono, ci sono ormai dal 2007, costituiscono una possibilità, si sta parlando certamente di riforme previdenziali che migliorino ulteriormente il vantaggio fiscale a beneficio dei lavoratori e dei cittadini che scelgono la previdenza complementare, ma già oggi riteniamo che il modello dia molto al risparmiatore che sceglie questa forma di risparmio. Ricordiamo che altre forme di risparmio agevolate nella stessa maniera non ce ne sono in Italia e quindi diciamo meglio tenerci questo che è buono piuttosto che puntare a ulteriori vantaggi che magari non si sa se saranno stabili nel futuro. Parlavamo prima di giovani lavoratori, Stefano, i dati demografici testimoniano un innalzamento nell'aspettativa di vita, se aggiungiamo anche il calo demografico dovuto alle minori nascite e che tanti lavoratori del baby boom degli anni 70 ora andranno in pensione nei prossimi anni, una spesa sociale che aumenta e per i giovani quindi l'interrogativo, porselo fin da adesso, se quando andrò in pensione, come andrò in pensione, com'è la situazione volta verso il futuro? Una riforma pensionistica oppure dobbiamo aspettare una riforma pensionistica o meglio pensarci da soli? Beh, meglio essere lungimiranti, meglio essere previdenti e provare a programmare. Se ci pensiamo bene, i temi demografici di cui si parla oggi in tv, eccetera, non sono notizie di oggi, sono notizie di 40 anni fa, perché il calo demografico di oggi è figlio del calo della natalità degli anni 80. Quindi chi è stato veramente lungimirante? Chi probabilmente alla fine degli anni 80, vedendo già che i numeri sarebbero stati questi, ha dato luogo a una soluzione del problema. La soluzione del problema è proviamo a compensare ciò che lo Stato probabilmente non riuscirà a darci più, perché lo Stato ce lo immaginiamo sempre come qualcuno di terzo rispetto a noi, ma in fondo lo Stato siamo noi. La demografia che alimenta le pensioni è la nostra demografia. Quindi, sapendo già 30 anni fa quale sarebbe stata la direzione, qualcuno ha detto proviamo a risolvere con il risparmio a lungo termine, goccia dopo goccia, non aggressivo, che punta al risultato non immediato con la speculazione, ma costruendo giorno per giorno un progetto di risparmio. Ecco, questa è la strada, quella della programmazione. Certamente è meglio iniziare a programmare da giovani, perché così basta versare meno per più tempo, piuttosto che prendersi all'ultimo dovendo rincorrere magari rischi per avere maggiori rendimenti, cosa che non vale la pena di fare se ci prendiamo per tempo, oppure anche essere costretti a versare di più, rinunciando alle necessità quotidiane. Ecco, forme di risparmio Stefano, un termine che l'ha accennato e che vorrei approfondire se lei è d'accordo. Un risparmiatore quindi investe in Solidarietà Veneto. Voi non siete un istituto di credito, non avete degli sportelli che vediamo fisici nel territorio, ma siete presenti appunto nelle aziende. Come li investite i soldi dei risparmiatori? Ci sono margini di rischio per chi investe in una forma di previdenza complementare come la vostra. Beh, anzitutto, tutte le forme di risparmio hanno l'obiettivo di portare a casa un rendimento a beneficio del risparmiatore e a ogni rendimento è commisurato un rischio. Chiaramente in una forma di risparmio come Solidarietà Veneto ci sono per il risparmiatore diverse opzioni. Per esempio, se una persona è iscritta al fondo pensione da 40 anni, ha accumulato in 40 anni di lavoro 100.000 euro. Sembrano cifre importanti, ma in realtà, se ci pensiamo bene, versando 2.500 euro l'anno per 40 anni si fa presto a montare una cifra importante. Ed è questo il versamento medio del cittadino, diciamo. Ecco, una persona che è alla vigilia della pensione, che deve godersi i sacrifici di una vita, probabilmente è bene che scelga una forma di risparmio in Solidarietà Veneto, un comparto di investimento che cerchi di mitigare al massimo il rischio. Dico sempre, si riesce ad annullare del tutto il rischio. Beh, allora, se ci piova addosso una bomba atomica o crolla un sistema, tu puoi aver risparmiato in qualsiasi forma, ma il discorso finisce lì. Però in condizioni normali, ecco che c'è una maggior tutela in un comparto magari che ha queste caratteristiche di contenimento del rischio. All'opposto, iscrivo mio figlio o un giovane, giovanissimo, che ha davanti a sé 50 anni di accumulo, ecco, può tollerare questa persona una maggiore volatilità nel tempo, puntando a un rendimento nel lungo periodo maggiore. Quindi ha ognuno il suo, il vestito su misura, è la persona che sceglie che tipo di forma di risparmio vuole. Naturalmente noi siamo diversi, tu farai la tua scelta, gli ascoltatori ne faranno un'altra. Noi siamo a disposizione, ecco, piuttosto. Tu hai detto bene, non siamo un istituto di credito, noi scegliamo i nostri partner, istituti di credito, società di gestione di risparmio tramite gara e tramite la gara riusciamo a comprimere i costi come pochi. Ma siamo a disposizione dei cittadini, dei risparmiatori, attraverso una rete molto fitta invece di sportelli che sono ospitati dalle parti sociali, dalle parti istitutive di Solidarietà Veneto, quindi datori, rappresentanti dei datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori. Ci diceva abito su misura, Stefano. Nel corso di un risparmio pluriennale, un giovane, si sa, nella vita può capitare di tutto. Allora, si può cambiare comparto o variare magari l'investimento oppure si decide adesso e poi rimane tale fino al tempo? Direi di più, bisogna cambiare perché come nella vita si dimagrisce, si cresce, si cala, eccetera, eccetera, è giusto cambiare comparto, probabilmente cominciando da comparti che hanno un livello di volatilità maggiore e andando gradualmente a ridurre il rischio, portandoci con gradualità verso i comparti meno rischiosi. Quindi noi ne abbiamo quattro a disposizione, comparto dinamico per i più giovani, dopo un po' di anni passo al reddito che si presta per i 45 anni giù di lì, dopodiché il prudente, infine il garantito TFR. Il cittadino è accompagnato in questo percorso, può scegliere anche degli automatismi che spostano le risorse di anno in anno da un comparto all'altro. Naturalmente ci può essere anche la scelta di qualche cittadino che vuole gestire per suo conto i risparmi e anche una volta all'anno può cambiare, è gratuito, è sconsigliato cambiare una volta all'anno, ma questo processo di riduzione del rischio, all'accorciarsi noi diciamo dell'orizzonte temporale, cioè del tempo che intercorre tra oggi e il prelievo finale, ecco è un processo naturale e anche opportuno. In questi giorni stia spedendo a tanti cittadini le lettere nelle quali diciamo guarda che forse il comparto che hai scelto non è proprio il più adatto per il tuo orizzonte temporale, chiamaci, vieni a trovarci così discutiamo assieme qual è la miglior soluzione per te. Stefano, avremmo ancora diverse cose da discutere su questo interessante argomento, ma il tempo è tiranno e abbiamo già esaurito quindi il tempo a nostra disposizione per questo incontro. La ringraziamo veramente molto per le utili informazioni che ci ha dato, ringrazio Paolo Stefano e le auguro buon lavoro a lei e tutti gli amici di Solidarietà Veneto. Grazie anche a voi, buona giornata. E a voi tutti gentili telespettatori, grazie per la visione e l'ascolto e alla prossima occasione di Incontro Con. Grazie a tutti. Grazie a tutti.